questo è già fatto? no? eh? ciao caio ciao come stai? bene intorno si ho sbagliato ah brava aspetta che vi spiego ragazzi oh scusa questa è lonza questi sono filetti da tagliarli di sbieco e scaldarli a bagnomaria come costine da mettere la lonza queste sono filetti e questa è la lonza da usare come vogliamo queste le costine però le metteresti nel risotto tu? tutto lui ha detto che anche nel risotto facciamo una costina una fetta di lonza ma io direi di usare la lonza da mangiare così e il filetto invece la lonza te la si abbanda adesso ma tutto tutto quello qua però lui ha detto che mi ha scaldato con il filetto sotto no no se vuoi secco lì allora la lonza e la fiora maria i sottili uniti alla cipolla ciao 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 Gidio